Vai, come ti chiami? Mi chiamo Anette, cognome impronunciabile, ho 18 anni, i miei tre sogni principali sono sogno A, da raggiungere e diventare una cantante, sogno B, traduttrice e sogno 3, hostess di volo, hostess fioristica. Quante lingue parli? Sei. Da quanto tempo? Sto studiando settimo. Quali sono queste sei lingue? Ucraino, polacco, russo, inglese, tedesco, sto studiando ancora, no, non francese, spagnolo. E da quanto tempo sei in Italia? Sono da tre anni. E dove sei nata? Sono nata in Ucraina, cresciuta in Polonia e adesso vivo in Italia. Grande fratello perché? Perché voglio mostrare alle persone che non credono in me di cosa sono capace e che sono forte di carattere. Faccio vedere che riesco a raggiungere i miei obiettivi. Perfetto, grazie mille. Vengo.